Lucifero, Baphomet, Astaroth, Satana, espressioni diverse di una stessa entità, il male, come se nel mutare dei tempi e dei luoghi assumesse forme e sembianze diverse. È errato pensarlo in qualche modo riconoscibile da particolari che in realtà sono solo ingenua tradizione di folclore. Poiché lui è infinita malvagità, è anche infinita astuzia che usa per essere subudonamente simile a noi, accanto a noi, tra noi. L'uomo di fronte a lui è condannato solo ad un'eterna domanda. Chi sei? Stai per diventare di nuovo padre, signor Baphomet, per la terza volta. Andrà tutto bene. Non è vero, è come se cercasse di uccidermi. Ti prego, fammi abortire. Sì, Jessica, capisco, però... Se non mi aiuti tu, guarda, lo farò da sola. Un assurdo biologico. Spiegati meglio, George, che cosa vuoi dire? Che lo sviluppo del feto avviene con velocità incredibile, in modo assurdo. Cerca una donna, cerca il figlio che è in lei, cerca me stesso. E' come se una presenza dimenticata, che credevo ormai lontana e sepolta nel passato, mi fosse di nuovo accanto e si impadronisse di me, contro la mia stessa volontà. Papà, non lasciarci più soli con l'amato. Lei non crede negli spiriti che tornano. Vero? E' morto molti anni fa. Morto? Un brutto incidente. Non ritrovarono nemmeno il corpo. Poveretto. Jessica! No! No! Chi sei? Chi sei? Il demonio non sa creare, può solo rinnovarsi. Una ripetizione di se stesso che dura tutta l'eternità. Anche. No! Chi sei? Grazie a tutti